Io ho proprio un handicap, cioè quando sono che sto scrivendo a macchina, se una persona mi parla, io non sento, con l'aggravante che rispondo. Immaginatevi il casino con tutte le donne con cui sono stato, come mi hai detto andiamo al cinema, adesso dici che non è vero, ma casini, ris, eccetera, eccetera, fino a quando non ho trovato una donna che poi ho sposato, che si è resa conto di questo mio grave proprio limite mentale e dopo le prime due o tre litigate, un giorno mi parla, io scrivo a macchina, non sento e invece di fare l'ennesima litigata lei fa un piccolo gesto che risolve il problema in maniera stabile per sempre, cioè si è alzata la maglietta, i due capezzoli hanno focalizzato la mia attenzione, cosa c'è cara, vai a buttar fuori l'immondizia, si serve altro e praticamente da quella volta lì, ogni volta che lei mi parla che sto scrivendo a macchina mi devo bloccare perché se si alza la maglietta non posso perdermi la scena.